Internet Festival, forme di futuro. Allora, mobilità e qualità dell'aria, Francesco Marcelloni dell'Università di Pisa. Che ci sia un impatto dei mezzi di trasporto sulla qualità dell'aria va da sé. Adesso cerchiamo anche di capire quale. Prego. Grazie. Allora, io parlerò di questo lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con i colleghi Giuseppe Anastasi e Carlo Vallati. Qual è l'idea di partenza di questo lavoro? Beh, sentiamo parlare dall'amministrazione, l'assessore, dobbiamo ridurre il traffico, evitare che le macchine girino in città. E l'idea qui è stata, andiamo a far capire alle persone cosa effettivamente succede. Cioè, come effettivamente la qualità dell'aria peggiori quando ci sono situazioni effettivamente di grande traffico. E l'idea qual è stata? Beh, l'idea è sostanzialmente quella di dire prima di tutto quali sono gli effetti nocivi della qualità dell'aria sulla salute umana e poi di far capire quando effettivamente l'aria nelle città non è poi così buona. Questi dati che noi possiamo raccogliere sono dati che ufficialmente vengono raccolti dalle ARPAT, ma tipicamente non sono presentati in modo tale che le persone riescano veramente a capirli. Quindi, dicevo, l'idea fondamentale è prima di tutto far capire gli effetti negativi e qui riporto solamente un dato che è riferito al 2012 ma compare nel report della Comunità Europea appunto sulla qualità dell'aria in Europa e questo dato ci dice che in Italia ancora muoiono più di 80.000 persone prematuramente a causa proprio della qualità dell'aria. Qual è l'idea che ci ha mosso? Beh, abbiamo già dei dati che vengono dati dalle ARPAT, anche se i sensori a disposizione sono in genere pochi nelle città, sia per problemi di costi, sia per problemi proprio di grandezza dei dispositivi. Però spesso questi dati che in realtà ci sono e sono disponibili vengono presentati nei formati che potete vedere nelle slide, cioè elenco di dati che molto spesso non sono molto significativi per le persone. Quindi qual è stata la prima idea? Beh, la prima idea è stata quella di cominciare a rappresentare questi dati e renderli disponibili alle persone in modo veramente amichevole, sfruttando quello che è chiamato l'indice di qualità dell'aria. Cos'è quest'indice di qualità dell'aria? Molto banalmente non è alto che il rapporto tra ciò che non misuriamo e il limite fissato per legge. Andiamo a prendere il massimo se andiamo a considerare più parametri e rappresentiamo il tutto attraverso un colore. Ad esempio il colore verde significa che l'aria è buona, il colore giallo significa discreta, mediocre è un colore rosa, un colore rosso scadente e così via. Questo ci porta a poter fornire all'utente la qualità dell'aria che è stata misurata il giorno precedente ufficialmente dalle ARPAT, quindi un dato ufficiale. Abbiamo fatto questa applicazione che può essere scaricabile, cosa ci dà questa applicazione? Raccoglie tutti i dati delle ARPAT a livello nazionale e ci mostra la situazione dell'aria nelle varie città attraverso i colori che abbiamo visto prima. Quindi vedete, in alcuni giorni particolari effettivamente c'è un'aria in alcune città che è abbastanza critica, esiste anche un'applicazione scaricabile e un'app che potete utilizzare sullo smartphone. L'app come funziona vi dice qual è la vostra posizione prendendola attraverso il GPS e vi dà la situazione dell'aria, ovviamente utilizzando le postazioni più vicine. Non contenti di questo però ci siamo detti, ma vorremmo analizzare qualcosa di più, cioè vorremmo capire effettivamente che relazione esiste tra la qualità dell'aria, le condizioni del traffico e le condizioni meteorologiche. Per far questo abbiamo iniziato da qualche settimana una sperimentazione che utilizza sia i dati forniti dall'ARPAT, delle due stazioni di monitoraggio che abbiamo appisa, sia inserendo in alcune vie principali dei nostri sensori che vanno a prelevare la qualità dell'aria. Qual è l'idea? L'idea è quella di utilizzare sia i dati che vengono dai nostri sensori, i dati dell'ARPAT, i dati del traffico prelevati dai sensori che sono già a disposizione nel comune, utilizzare anche dei dati che arrivano in tempo reale ad esempio da Google, in modo tale da avere un'idea abbastanza precisa in tempo reale di qual è la situazione del traffico e andarla a confrontare con i dati che noi preleviamo per la qualità dell'aria. L'idea è quella appunto di andare a fare dei sistemi per scoprire correlazioni tra questi dati, per andare a fare previsioni sull'andamento dell'aria considerando i dati che abbiamo a disposizione, in modo tale da analizzare i punti critici della città in termini proprio di qualità dell'aria e andare a promuovere un carpooling come era stato descritto precedentemente, prevedere eventualmente dei servizi alternativi in giornate particolarmente critiche. Quindi lo scopo nostro è quello di dare alla cittadinanza un'idea di cosa significa avere una città con forte traffico, specialmente in giorni particolari. Chiudo la mia presentazione cedendo una frase che ho trovato su internet che mi piace particolarmente, tutti vogliono tornare alla natura ma nessuno ci vuole andare a piedi. E questo è ciò che effettivamente succede oggi. Vi ringrazio.